accesso al pronto soccorso ora si passa da 4 a 5 codici d'accesso l'anno scorso al pronto soccorso dell'ospedale di borgo quasi il 90 per cento dei casi di paziente in codice verde sono stati visitati dal medico entro due ore dal momento dell'arrivo in ospedale e dalla registrazione col triage buone percentuali ma il ministero della salute prevede una riorganizzazione del sistema dei codici di accesso che passano da 4 a 5 e fissa per ognuno dei tempi massimi d'attesa da parte del paziente per l'accesso alle aree di trattamento la principale innovazione del modello proposto dal ministero è l'adozione di un sistema di codifica numerico da 1 a 5 associato anche a un codice colore dove l'uno corrisponderà all'attuale codice rosso quello che indica i casi più gravi da trattare immediatamente al 2 il nuovo codice arancione per il trentino con un tempo massimo di trattamento fissato in 15 minuti al 3 il codice azzurro con tempo di accesso massimo di un'ora al 4 il codice verde con due ore di tempo al massimo e al 5 il bianco con impegno al trattamento entro le 4 ore